Un saluto a voi tutti, bentornati al Tg7 Varese che dedichiamo interamente ogni settimana alla città Giardino. Il nostro capoluogo è stato interessato, attraversato, solcato e abbracciato da eventi istituzionali di rilievo nazionale e più. Sapete tutti a cosa mi riferisco, sicuramente alla visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ve la raccontiamo attraverso le sue parole espresse nell'aula magna dell'Università dell'Insubra. Poco dopo il Capo dello Stato si è fermato al Palaghiaccio per l'inaugurazione del nuovo impianto, dovremo abituarci a chiamarlo a 5 Ice Arena, questo è il suo nome ufficiale e in quel caso vi facciamo ascoltare la voce di due esponenti sportivi destinati a dare l'anima a questo nuovo impianto sportivo. Matteo Cesarini, Angelo Niere, cioè area ghiaccio del palazzetto e progetto nuoto dello stesso impianto. Poi però vi raccontiamo un'altra visita istituzionale che ha caratterizzato Varese nei giorni scorsi, quella del Capo della Polizia. E da lì avanti per un'altra serie di servizi. Buona visione. Arriva accolto dalle autorità il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad attenderlo nell'aula magna dell'Università dell'Insubria per l'inaugurazione dell'anno accademico che segna anche l'inizio dei festeggiamenti per il 25esimo anniversario di fondazione, 310 invitati che lo salutano tra gli applausi. Oltre agli ospiti previsti dal cerimoniale del Quirinale, il Ministro dell'Università e della Ricerca, il Presidente della Regione e della Provincia, sindaci, senatori, deputati e alle autorità accademiche dell'Ateneo, rettori e prorettori in rappresentanza delle università non soltanto lombarde, una delegazione di professori in toga, una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e gli studenti a cui il Presidente ha rivolto il pensiero finale. Che i Paesi dell'Unione si dividono in due categorie, i Paesi piccoli e i Paesi che non hanno ancora compreso di essere piccoli anch'essi, perché di fronte a queste sfide nessun Paese è in grado di affrontarle da solo, neppure il più forte economicamente, neppure il più forte militarmente, neppure il più forte politicamente. Questo è il grande lascito che quella generazione di Paesi fondatori ci ha consegnato e che è nostro dovere attuare, integrare, costruire giorno per giorno in questo nostro tempo. E per questo è fondamentale il ruolo delle università. I giovani avvertono di essere cittadini italiani ed europei insieme. Come diceva, come abbiamo sentito all'ex magistralis, la condizione che Schengen ed Erasmus garantiscono ai giovani era inimmaginabile. Non dico quando ero giovane io, che ho molto tempo addietro, ma anche quando ero giovane molti dei presenti. Ma questa è la condizione d'Europa, questa è l'Europa. Per questo è diventata, dove essere stata per secoli, un teatro di guerra e fratricide è diventata un continente di sviluppo, di progresso, di pace, che deve continuare a trasmettere valori di pace intorno a sé, anche in questo tempo drammaticamente segnato dal ritorno della guerra. Questo è il nostro compito. Sono importanti gli Atenei perché è questo compito affidato ai giovani. Non a caso il compito di Atenei è occuparsi del futuro dei giovani. Auguri e buon accademico. Poi il presidente Mattarella risale in auto diretto verso il palaghiaccio varesino per il taglio del nastro. Non prima però di aver gentilmente mandato in diretta un saluto ai telespettatori di Rete 55. Ecco lo che esce, si dirige verso la macchina presidenziale. Presidente, un saluto. Grazie. Per dirsi davvero riuscito, un centro nuovo e sostenibile, moderno e polisportivo come la 5 Ice Arena deve poter contare sulle persone, sui bambini e sui ragazzi, sugli atleti di oggi, di ieri e di domani, sui professionisti e gli esordienti, su quei valori che trovano nel ghiaccio e nell'acqua, cioè sulla pista e in piscina, ma anche in palestra e nei due campi da paddle presenti nel nuovo palaghiaccio di Varese, il terreno da gioco ideale per chi come Matteo Cesarini ha vissuto la giornata di oggi da protagonista, regista e autorevole sostenitore. È un'immagine bellissima vedere lo stadio così pieno, in un'occasione così particolare e unica, dopo tanti anni di sforzi e vedere in pista, diciamo, in questo momento tutti i vari gruppi, le due società di hockey su ghiaccio, gli amici della Pola Varese, è un'emozione molto molto bella. Lo che vorrei aggiungere è che dietro a questo progetto c'è stata tanta riesilienza, collaborazione tra il pubblico e privato e anche l'attenzione nel voler creare un impianto completamente attorno agli atleti, quindi con ingressi alla pista che siano agibili anche per il Parais e anche delle dinamiche di gestione di flussi e di intrattenimento per il pubblico che viene a vedere le partite che possano veramente alzare il livello dell'esperienza. Suggestivo il riferimento culturale, sociale ed educativo proposto da Agnere di progetto nuoto in quello che definisce un quartier generale del welfare. L'acqua nelle sue forme solide e liquide come elemento fondamentale per creare benessere, per far sognare ovviamente i bambini un futuro agonistico ma anche per le persone di tutta l'età per poter capire quanto sia fondamentale l'attività motoria e sportiva in genere per un corretto e strano stile di vita. Questo, mi permette di dire solo questo e spero che avremo presenza numerosa a frequentare la struttura anche al di fuori dell'attività agonistica. Prima la Martinella del Broletto, consegnata dal sindaco di Varese in segno di riconoscimento per quanto fatto dalle forze dell'ordine in pandemia. Poi l'inaugurazione di largo Fabio Mondora, a due passi da quella questura cui il compianto primo dirigente di polizia ha dedicato vita, impegno, spirito di sacrificio. Infine il taglio del nastro, la mostra che svela l'altro volto di Palazzo Italia, quello artistico, storico e monumentale. La giornata che il capo della polizia Lamberto Giannini ha trascorso nella città Giardino si riassume in una sola parola, emozione. È importante ritrovarsi, ricordare quello che è accaduto perché non bisogna disperdere anche quel patrimonio di esperienza, tutto ciò che si è fatto, dove in grandi difficoltà si è forse riuscito a dare il meglio tra tutte le amministrazioni, tra tutto il sistema del nostro Paese per riuscire a stare vicino ai cittadini e superare il meglio possibile un periodo terribile. Oggi non solo si inaugura questo largo, ma si inaugura una mostra, quindi questura non solo come luogo di sicurezza, ma di cultura e di storia. Questo è molto importante perché noi ci teniamo anche nel nostro motto, quello di esserci sempre, che testimoni è esserci sul territorio, esserci vicino ai cittadini. E l'idea di poter aprire le nostre case, soprattutto quando sono belle, quando rappresentano un particolare valore storico e quindi avvicinarci sempre più ai cittadini, per noi è di grande importanza. In prima fila la vedova di Mondora, Cristiana, insieme ai figli, agli amici, ai colleghi che con lui hanno trascorso anni di lavoro al servizio dello Stato. Poi i dirigenti che hanno preceduto l'attuale questore Michele Morelli, da Francesco Messina, Giampiero Ingrassia e Gianni Pepe. La mostra, curata da Serena Contini e oggi visitata in anteprima, sarà aperta al pubblico sabato 12 novembre. Rete 55 le dedicherà un approfondimento mirato nei prossimi giorni. Dopo la positiva esperienza nel quartiere Lazzaretto, Casa Sant'Antonio pianta radici anche a Bizzossero, in Via del Bacino, con una seconda sede, pronta ad accogliere i minori in difficoltà. Obiettivo, favorire i meccanismi di reinserimento sociale attraverso il recupero della quotidianità. Provare a sostenere e ad aiutare questi ragazzi al raggiungimento dell'autonomia e a sanare le situazioni di marginalità e di disagio che finora hanno vissuto attraverso l'ospitalità quotidiana, quindi attraverso l'intervento educativo, professionale e quotidiano di personale addetto, quindi dei nostri educatori, delle nostre equip. Tutto altro che casuale la parola casa, impressa nella denominazione della comunità per minori che fa capo alla cooperativa San Luigi. Siamo convinti che non ci si possa occupare dei minori di cui noi ci prendiamo carico senza considerare anche le famiglie, senza considerare anche i legami che questi ragazzi, pur nelle loro difficoltà e nella loro marginalità, hanno. Chiamiamo casa perché vuole essere anzitutto casa, quindi trovare quegli affetti e quelle attenzioni che solo una casa può dare e che aiutano loro nel loro cammino di crescita, nella loro educazione, verso una capacità di prendersi cura poi in autonomia della loro persona. Se c'è una persona che in questi anni ha saputo dare alla solidarietà un volto metaforico, capace di resistere alla prova del tempo, è senz'altro Antonia Calabrese, timoniera di Varese in Maglia, un'associazione che traduce l'amore per gli altri attraverso il linguaggio del ricamo e del tessuto, del colore e della ricucitura, fisica e sociale, emotiva e benefica. Domenica 20 novembre, all'ombra del Bernascone, sarà possibile nuovamente avvolgersi di generosità per sostenere una buona causa, in questo caso quella della cooperativa San Luigi, che attraverso la sua gemmazione per minori, Casa Sant'Antonio, ha appena inaugurato una seconda sede a Bizzozzaro, abitazioni che per accogliere i ragazzi e infondere loro fiducia e calore non necessitano solo di tetti e di mura, ma di anima. Coperti, lenzuola, suppellettili, cose che sono in grado di trasformare uno spazio abitativo pensato per loro, che però è uno spazio vuoto, in una casa vera e propria. I modi per contribuire dunque sono tanti, donare cose o denaro, tempo e partecipazione attiva, magari presentandosi in piazza San Vittore e alzando l'asticella di una sfida che ha già collezionato successi. Il nostro obiettivo, 1000 sciarpe, è stato superato abbondantemente e ringrazio veramente tutte le volontarie che hanno lavorato a questo progetto. Abbiamo realizzato 1150 sciarpe, di cui 110 bianco-rosse, colori della città di Varese, quindi adesso dobbiamo fare un ulteriore passo avanti. Quindi invito tutta la città di Varese, non solo, a venire il giorno 20 novembre dalle 10 alle 17 in piazza San Vittore. Venite tutti ad acquistare una sciarpa. 500 risotti serviti, oltre 100 rose e benedette, 125 dolci martino gustati da centinaia di persone intervenute nei momenti clou della Kermess, soprattutto alla tradizionale sfilata e all'arrivo dei cavalieri. Tantissime famiglie con bambini ansiose di assistere agli spettacoli di Mago Andrea e ancora i Balli Country, con oltre 20 danzatori distribuiti su via San Martino e la Banda della Rasa, che con passo fiero ha salutato la festa più amata dal centro storico di Varese. Una domenica graziata dal meteo, affollata dai visitatori, animata da tanti momenti di intrattenimento, da piatti gustosi e impreziosita dal valore solidale dell'evento, col mercatino dei bambini generosi e la presenza simbolica della piccola Rianna. Insomma, chiosa soddisfatta e grata nei confronti dei volontari, l'organizzatrice Sonia Milani. Il modo migliore per cacciare via i fantasmi di un biennio drammatico è ritrovarsi, riavvicinarsi, riabbracciare la centralità significativa di una parola che oggi vale ancora più di prima, insieme. Altri due cenni prima di chiudere. Prima di tutto state vedendo i protagonisti della confraternita del riso col persico. Ebbene sì, per la prima volta anche nella città di Varese pianta le radici, una vera e propria confraternita enogastronomica dedicata in particolare al riso in cagnone col persico. Una delizia che non a caso è stata presentata e ufficializzata nel ristorante che storicamente lo prepara da sempre. Cioè il ristorante Maran di Calcinano, del pesce, va sottolineato che una confraternita non è solo un atto, diciamo così, di folclore, di cultura enogastronomica, ma indirettamente anche di rilancio turistico, perché in questo caso si tratta di un piatto legato a doppio filo alla bellezza del nostro territorio, in particolare alla zona dei laghi. Poi facciamo un balzo a Palazzo Estense e un plauso a tutti coloro che anche quest'anno hanno partecipato alle tavole imbandite da Varese Alzheimer. Un momento di allestimento pre-natalizio, sicuramente suggestivo per gli occhi, ma anche per il cuore, perché poi tutte queste iniziative vanno a beneficio delle persone meno fortunate, dei malati di Alzheimer o di altre forme di demenza, fortemente accompagnate, curate e sostenute dall'associazione Varese Alzheimer, dal presidente Moresi, dalla vicepresidente Sessa. Mi fermo qui, il TG7 vi saluta, vi dà appuntamento giovedì alle ore 20, replica all'ora di pranzo di venerdì. Lo stesso vale per gli altri TG7 tra mercoledì e sabato. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS